Di offrire, come dicevo, una opportunità importante perché si capisca che prima di tutto le scienze sono accessibili a tutti, basta avere la buona volontà e la grande curiosità di conoscere, di sapere. Questo rappresenta l'Accademia Giovani per la Scienza, il percorso formativo dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Pistoia, incentrato sulle discipline scientifiche e non solo. Un percorso voluto dalla Fondazione Caripit che in questa edizione ha avuto la conclusione con un doppio incontro alla sedia principale della Fondazione Pistoiese, volgendo lo sguardo alle stelle con la professoressa Elena Amato e all'intelligenza artificiale in un faccia a faccia con il professor Alfio Quarteroni, insignito della medaglia Eulero, uno dei più prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale nel campo della matematica applicata. Vorrei cercare di dare un'idea oggi ai ragazzi di che cosa sta davvero alla base e quindi parlare di machine learning, ovvero della capacità che i computer hanno di imparare autonomamente, per la prima volta nella storia se vogliamo, i computer sono sempre stati degli esecutori e poi il machine learning è alimentato soprattutto dalle reti neurali. Le reti neurali sono di fatto degli algoritmi che cercano di mimare, di simulare il comportamento dei neuroni umani. Con la professoressa Amato, ricercatrice all'osservatorio di Arcetri, si è invece parlato di raggi cosmici, anche pensando alle implicazioni possibili di quelle che sono le particelle a più alta energia presenti nel nostro universo. Le implicazioni che hanno questi raggi cosmici sono varie, sono importanti per esempio per lo sviluppo di molecole prebiotiche e hanno effetti sulla nostra stessa vita. Sono radiazioni cosiddette ionizzanti che hanno un impatto sull'evoluzione, sulle mutazioni, nel bene e nel male hanno un impatto molto diretto, estremamente diretto, molto più di quello che si creda sulle nostre vite. Questa esperienza che cosa ti sta dando? Allora, sicuramente una sorta di aiuto per capire quello che potrei voler fare poi in futuro. È molto importante aver incontrato ad esempio Alfio Quarteroni, di cui oggi sentiremo anche un altro intervento, perché è stato un incontro ormai tre anni fa che da studente del quarto anno del liceo scientifico per me fu davvero molto determinante. La cosa che mi preme dire a tutti i ragazzi che ci ascoltano è che a settembre uscirà il bando per le nuove entri dell'Accademia, per noi sarà un piacere accoglierli.